La Juventus procede sul mercato senza sosta. In questa fase i bianconeri stanno cercando di piazzare alcuni giocatori, tra questi Mattias Sule, Federico Chiesa e Filip Kostit. Se tutti e tre dovessero andare via, per i bianconeri si spalancherebbero le porte per almeno due innesti sulle fasce. Nella lista della Juventus ci sono tre nomi tutti del porto, i già noti Galeno e Pepe, il preferito della Juve, e oggi si è aggiunto anche Francisco Conseisau, figlio d'arte di Sergio. Per uno di questi la Juve avrebbe intenzione di fare anche un investimento. A loro, in ottica prestito, c'è sempre vivo anche il nome di Jadon Sancho. Il giocatore di proprietà del Manchester United è un obiettivo concesso, ma la Juve deve attendere le cessioni e sperare che la situazione dell'inglese non cambi.